Buongiorno a tutti. Cosa dicevo nell'analisi weekly e poi anche nell'analisi del 13 e 14 luglio che saremmo dovuti andare sopra questo massimo a 12.836. Ieri abbiamo avuto questa deviazione dal percorso ma guardando il future questa mattina vedo che la Germania è a più 168 punti e quindi dovremmo aprire in area 12.833 ovvero qua a un passo dai 12.836 e probabilmente come vi dicevo dato che il settimo T inverso potrebbe ancora essere in chiusura oppure l'ottavo se già vincolato a ribasso vedremo presto quale delle due opzioni avremo e tenete conto che finalmente con il superamento dei 12.836 già aspettato da domenica avremo una condizione più che sufficiente e minima per andare a chiudere il terzo T inverso. Questa è una cosa che ci permette di ragionare su cosa succederà o può succedere successivamente anche perché noi abbiamo ancora in piedi il discorso relativo al T più 3 trimestrale di indice per cui ragionando su volumi, tempo e candele vedremo come operare dopo il raggiungimento anzi dopo il superamento di questi 12.836 pronosticato appunto già domenica per quanto riguarda il grafico a candele giornaliere anzi no per quanto riguarda come vedete l'avevo già messo ieri il superamento delle medie mobili ha fatto il suo lavoro per quanto riguarda invece il grafico a candele giornaliere non l'ho aggiornato penso ma ecco qua vedete che avevamo un hammer che ci potenzialmente poteva già proiettare appunto verso l'alto e verso il superamento appunto non soltanto di questo massimo a 12.842 ma anche verso questo cosa ancora più importante tenete a mente i 12.913 perché ci possono dire tante cose anche sul resto sul proseguido di questo T più 3 inverso trimestrale inverso anche perché stiamo per andare in Golden Cross ok per quanto riguarda invece il Fuzzimib i future ci danno più 290 punti figuratevi ed un'apertura potenziale a 20.145 20.145 qui siamo già ben oltre il sesto T-3 e stiamo puntando anche in questo caso dove stiamo puntando qua al massimo a 20.222 anche perché se apriremo a 20.145 saremo a una settantina di punti sostanzialmente da questo quindi vedete quanto le situazioni si stanno riallineando come di consueto in questo caso riflettete sempre sull'inverso e che cosa può succedere dopo che avremo di nuovo più che la condizione minima per la chiusura dell'inverso stesso si può dare corso a un movimento di ribasso per la chiusura eventuale appunto ancora di un T-3 anche se di nuovo come vedete noi con la ciclica evoluta non ci mettiamo short aspettando che no ci posizioniamo long perché c'è la possibilità appunto di un raccordo che si vadano a fare determinate cose tra l'altro pronosticate appunto come detto domenica confermate lunedì deviazione martedì ieri e poi però oltre la deviazione non si è andati e confermate oggi successivamente valutiamo il da farsi dopo che determinate condizioni oltre le sufficienti e minime si sono verificate e quindi ci riposizioniamo magari appunto nell'altra direzione questo è un lavoro che si può fare e che conviene fare per evitare di essere sempre in sofferenza qui dovrebbe chiudere il trimestrale allora rimaniamo short e parte un long e si spara una quantità di punti pazzesca su DAX stessa identica cosa capite che chi fa davvero trading a livello professionale non può prendersi in faccia quanti punti sarebbero 12,4 18 400 tick che valgono tanti soldi a tick mentre aspetta che si torni a scendere io non riesco a credere a chi mi dice che fa trading di posizione perché quando guadagni tanti soldi e voglia di vendere e quando ne perdi tanti vorresti vendere comunque o comunque quando ti si riduce il guadagno non sei felice e hai sempre voglia di chiudere la posizione per cui invece noi ci adattiamo a quello che è il mercato e in base a quello ci muoviamo e ci muoviamo sempre il più possibile facendo attenzione al fatto che l'overnight è rischioso in determinati momenti lo è stato ieri ci siamo presi in faccia questi punti temporaneamente siamo andati a fare a inserire il secondo chip long a questa altezza e abbiamo dovuto aspettare abbiamo anche temporaneamente perso ancora dei soldi senza però uscire dalla posizione perché non è stato violato lo swing importante che doveva tenere su tutto il movimento tra l'altro avete notato che questo sembra un joypad ma a parte quello appunto arriviamo poi al nostro questo lo si può fare solo esclusivamente con un modello statistico matematico con delle regole precise viceversa ieri prima saremmo stati scoraggiati poi felici poi scoraggiati poi felici poi scoraggiati no vendiamo cosa facciamo no fanno troppe finte ormai sui mercati ossia un'idea precisa di dove vendere dove mettere lo stop loss e c'è un metodo operativo per poterlo fare ci deve essere tutto il più possibile freddo oppure l'emotività vi frega non c'è molto da fare l'emotività vi frega per cui come al solito riflettete carta da parati o giocatori e se volete giocare giocate con i migliori perché è il vostro gruppo dei pari che stabilisce chi siete se frequentate cinque persone incapaci voi rischiate di essere la sesta incapace se invece frequentate cinque persone estremamente in gamba magari voi sareste sarete la sesta vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo ho già perché con questo rialzo di future sto per chiudere un'operazione decisamente interessante grazie e buona giornata grazie a tutti